Su come stare a Milan, ci sarebbe da fare se fare serie Netflix, 12 per capire cosa significa meritarsi in una società del genere, anche per giocatori importanti come noi. Dico che qualsiasi giocatore va in un posto del genere, sia anche il più forte che c'è, deve meritarsi di rimanere, perché non c'è un giocatore più grande di quel club.